Abbiamo avuto un'estate terribile. Quanto c'entra l'uomo rispetto al cambiamento climatico? Io direi che è questo punto che c'entra in pieno, perché questi tipi di estate in passato erano l'eccezione e non la norma, come temperature di 40 gradi. Ma soprattutto quello che ha colpito, passiamo un po' ai dati tecnici di meteorologia, siccome sono meteorologo, quello che è stata l'anomalia di quest'estate qua è stata la durata del caldo. Pensiamo che fino agli anni 80, io seguo l'osservatorio meteorologico di Modena, ma più o meno a Bologna la situazione sarà simile, mediamente c'erano sui 25-30 giorni oltre i 30 gradi centigradi di temperatura massima. Eccezionalmente 40, 42, 44 ce ne sono stati 80 e quindi è una nuova normalità con cui le nostre città, ma anche l'uomo, devono fare i conti. E come possiamo fare i conti con questo mutamento? Beh, anzitutto bisogna comunque ormai convivere con questo mutamento, perché una parte di danno l'abbiamo fatto. Stando sul pezzo dell'ondate di caldo, bisogna bere presente che se quello che succede oggi succede con un aumento di temperature medie e globali di meno di un grado rispetto all'era preindustriale, pensiamo all'obiettivo della conferenza di Parigi, limitare il riscaldamento globale entro due gradi rispetto all'era preindustriale. Quindi significa che comunque le cose peggioreranno, peggioreranno ma in un modo che possiamo in qualche modo adattarci. Più che adattarci a me piace essere resilienti, cioè avremo comunque nella seconda metà di questo secolo, nella migliore ipotesi, cioè che siamo virtuosi, estati che magari avranno 100-120 giornate calde e alcune giornate che potranno, se quest'anno siamo arrivati a 40-41 gradi, potrebbero arrivare a 43-44 gradi, che non è poco, non è facile, ma ce la possiamo fare. Il modello di sviluppo invece, business as usual, gli economisti lo chiamano BAU, proprio come il BAU del cane, è un modello che la Banca Mondiale definisce incompatibile con la civiltà globale interconnessa, ma è anche molto di più che per la civiltà interglobale il problema. pensiamo che arriveremmo in quella peggiore dell'ipotesi, che spero che non sarà percorsa dell'umanità, ad avere temperature in una città come Bologna di 46-48 gradi, si arriva al limite dell'invivibilità. Altre parti del mondo vanno verso l'invivibilità, quindi si scatenano i problemi delle migrazioni, il problema di attualità di questi giorni degli uragani e quindi abbiamo questo bivio di cui ormai siamo all'incrocio, cioè dobbiamo capire quale strada imbocchiamo. Lei è positivo o negativo rispetto a quello che pensa che i governi e le società faranno per affrontare ciò? Ma diciamo che sono realistico. Praticamente nessun governo, nessuno Stato sta prendendo sul serio gli impegni della conferenza di Parigi e anche il messaggio di Papa Francesco di Laudato Si, ma anche il messaggio di altri documenti, di altre religioni nei confronti del problema cambiamento climatico. Praticamente tutte le religioni hanno stilato dei documenti su questo tema. Gli unici due stati che hanno imboccato la strada giusta sono due stati un po' da parti opposte del mondo, ma che hanno comunque tutte e due una loro etica e una loro filosofia. Costa Rica, paese più felice del mondo, ha abbandonato per esempio l'esercito dal 1948 alle spese militari e investe in ambienti e salute, e il Bhutan, e qui passiamo alle filosofie di vita, alle scelte, il cui il ministro del Bhutan alla conferenza di Parigi parlava di benessere lordo anziché di prodotto interno lordo. Due stati piccoli però? Sono due stati piccoli, bisogna sperare nella contaminazione, nel rafforzamento degli impegni della conferenza di Bonn, ma non ultimo sull'azione, e questo è il mio messaggio, non più individuale ma di comunità, quindi dal basso in questo senso, non siamo più noi che facciamo la differenza con le nostre scelte individuali, le fa la comunità, cioè le piccole comunità, se riescono a fare rete, se riescono a fare massa critica, soprattutto dovranno anche accettare delle scelte che porterebbero anche a un mondo diverso, anche a un modo diverso di affrontare il consumismo, il turismo e tante altre cose, ma che sono indispensabili non più per il futuro delle successive generazioni, ma già per il nostro. Grazie. Prego.